Erano 500.000 E quant'era vivo? Dovrei sapere come mi sono fatto queste cicatrici? Mio padre era un alcolista e un maniaco E una notte, da di matto ancora più del solito Mamma prende un coltello da cucina per difendersi Ma questo a lui non piace Neanche un pochetto Allora, mentre io li guardo Lui la colpisce col coltello Ridendo mentre lo fa Si gira verso di me E dice Perché sei così serio? Viene verso di me con il coltello Perché sei così serio? E mi ficca la lama in bocca Mettiamo un bel sorriso su quel faccino Perché sei così serio? Ora La nostra organizzazione è piccola ma Ha un alto potenziale di Di aggressività ed espansione Chi di voi vuole entrare nella nostra squadra? Sentiamo Oh, c'è solo un posto disponibile al momento Quindi dovremo fare delle Eliminatorie Fate in fretta? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti